E' qui che ha affidato una stanza? C'è una borsa? Un milione. Scusa, prendiamone un po', tanto non sappiamo neanche di chi sono. Viviamo come tre pezzenti e abbiamo una borsa piena di soldi. Non sollevarle a proporzione indebita. Lascialo! Mi cancio. I soldi. Ma io dovevo capitare proprio con ste rincoglionite. Mandato cazzo, venite. Va con leone. Vai rivedro. Ok. Spara! Che nessuno si muova! Mica sceme sti ragazzi. Ciao da Valeria. Ecco una news per gli amanti del maghetto di Hogwarts. Solo una settimana fa Warner Brothers aveva fissato il 18 novembre 2016 come data di uscita per lo spin-off di Harry Potter. Fantastic Beasts, cioè gli animali fantastici dove trovarli. Oggi la notizia è che il regista di questo progetto potrebbe essere Alfonso Cuarón. Se questo rumor fosse confermato, Alfonso Cuarón tornerebbe al popolare franchise dopo aver diretto Harry Potter e il prigioniero di Azkaban nel 2004. Staremo a vedere. Iscrivetevi al nostro canale YouTube per essere sempre aggiornati non solo su questa notizia ma su tante altre in arrivo. Io vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti! Grazie!